Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. La ricostruzione nel cratere del centro Italia ha subito una importante accelerazione. Ieri all'Aquila il Presidente della Regione Marsiglio ha fatto il bilancio da quando è stato eletto. Entro fine mandato completeremo tutte le pratiche, ha dichiarato il Governatore. Il servizio di Giuseppe Dintino. 1.400 cantieri autorizzati e 250 milioni di euro erogati. Questi i numeri della ricostruzione in Abruzzo nel cratere del sisma che tra il 2016 e il 2017 sconvolse il centro Italia. Ieri all'Aquila insieme al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Vincenzo Rivera, il Presidente Marsiglio ha fatto il bilancio dei primi tre anni di Governo. Ricordo che quando all'inizio del 2019 è iniziato il mio mandato, nei due anni precedenti erano stati fatti non più di una cinquantina di decreti. Già nell'anno 2019 abbiamo triplicato quel numero, l'anno successivo abbiamo ulteriormente raddoppiato. Quest'anno abbiamo realizzato un numero di oltre 850, vuol dire che abbiamo fatto cinque volte tanto quello che si faceva al ritmo precedente. Il 2021 rispetto all'anno precedente ha visto un incremento del 256% di pratiche approvate e ammesse al finanziamento. In totale finora sono state 3 su 5 quelle approvate, pari a oltre 3.700. Altre 4.000 sono attese nei prossimi mesi. Tra le quattro regioni coinvolte dal terremoto, l'Abruzzo da ultimo ha superato il Lazio per numero di domande approvate. Umbria e Marche sono rispettivamente al primo e al secondo posto di questa classifica e perché siamo ancora destinatari del solo 10% della quota di riparto, ha detto Marsiglio. La quota però è stata aumentata per quanto concerne il personale. Se nel 2019 i dipendenti dell'ufficio per la ricostruzione erano 18, oggi ne sono 96. Ora attendiamo che la ripartizione sia anche per le altre spese, ha commentato il direttore Rivera. Con dati alla mano in questi anni abbiamo dimostrato che quella quota era sottodimensionata. Abbiamo ottenuto per ora nel personale una maggiore dotazione. Attendiamo che questa quota percentuale di riparto venga applicata anche a tutte le altre spese. A cinque anni dal sisma, da oggi sul sito dell'USR è attiva la piattaforma che permette di seguire in tempo reale l'avanzamento delle pratiche dei cantieri. L'accelerazione è data, oltre che da una maggiore pianta organica, anche dalle semplificazioni introdotte dai decreti sblocca cantieri e rilancio e dalle ordinanze del commissario Lennini. Queste due fatti specie, queste due circostanze hanno portato oggi a un volume di decreti che pare a 20 volte quello del 2018. Entro fine mandato, cioè il 2024, adempiremo a tutte le pratiche, ha promesso Marsilio. Entro la fine del mandato noi avremmo esaurito tutte le pratiche e messo in piedi una ricostruzione reale e concreta del nostro territorio. Rivera invece è più cauto. Il tempo c'è, ma dipenderà dalla risposta del territorio, ha dichiarato il direttore al TG6. Il bollettino Covid sono 1872, nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 946 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 6.111 e tamponi antigenici 12.867 è pari al 9,86%. I nuovi positivi hanno età compresa tra un mese e 98 anni e provengono 452 dalla provincia dell'Aquila, 542 da quella di Chieti, 366 da quella di Pescara, 442 da quella di Teramo, 37 da fuori regione, mentre per 31 sono in corso accertamenti. I guariti nelle ultime ore sono 3569, mentre gli attualmente positivi sono in calo di 1.704 unità ed ora sono 107.931. In flessione i ricoveri 508 in area medica, meno 7 rispetto a ieri, 28 in terapia intensiva, dato invariato. Si registrano 5 decessi recenti, 2 sono risanenti ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL, mentre gli altri 3 riguardano pazienti di età compresa tra 76 e 88 anni, 2 in provincia di Teramo e 1 in provincia dell'Aquila. La prevalenza della variante Omicron in Abruzzo raggiunge il 100% ed è quanto emerge dalla Flash Survey condotta dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler sui positivi dello scorso 31 gennaio. In particolare su 1.231 nuovi casi positivi al tampone molecolare sono stati 51 quelli sequenziati a campione. Dalle attività di sequenziamento è emerso che tutti sono riconducibili alla variante Omicron, nessun caso dunque è dovuto alla variante Delta. L'Abruzzo è una delle 11 regioni in cui Omicron è al 100%, la media italiana è del 99,1%. Abruzzo che resta in zona arancione, due le modifiche da lunedì in base alle ordinanze firmate oggi dal Ministro Speranza. La Sicilia passa dall'arancione al giallo, il Molise dal bianco al giallo. E ora cambiamo pagina, gli orti urbani di via Santina Campana a Pescara e l'area verde attrezzata adiacente recuperati nel 2018 dopo un lungo abbandono rischiano di essere cementificati per la scelta della Giunta Masci come denuncia il PD. Paolo Renzetti. Gian Pietro, oggi lanciate un grido d'allarme sulla futura destinazione di questa che è oggi un'area destinata ad orti urbano a Pescara in via Santina Campana. Perché? Questa è un'area che fino al 2017-2018 era considerata molto degradata, infatti gli stessi residenti ne denunciavano spesso addirittura la presenza di spacciatori. Con la scelta di farci qui degli orti urbani e un parco attrezzato, quest'area è stata fortemente rigenerata. Oggi, anzi ieri, abbiamo scoperto in commissione che proprio questo sito, che è un'area verde, dovrà essere scelta dall'Aggiunta Masci come uno dei luoghi dove sorgeranno nuovi asili nido. Ora, noi siamo stati i primi a chiedere che l'Aggiunta faccia nuovi asili nido perché abbiamo contestato le pesanti gestioni delle liste d'attesa delle asili nido a Pescara che hanno cacciato fuori 188 bambini per la prima volta dopo tanti anni. Siamo disponibili ad aiutare l'Aggiunta a trovare siti che non siano aree verdi attrezzate e che vorrebbe dire fare un passo indietro perché ci vogliono gli asili nido, ma scegliere proprio un'area che è attrezzata, che è vissuta dai residenti per distruggere una bella esperienza di avere attrezzato vuol dire andare anche contro quello che il PNR richiede. E pensare che debba essere sottratta al quartiere per farci un'altra struttura quando ci sono tantissime alternative a partire dalle scuole perché siamo sicuri che se chiedessimo alle dirigenti scolastiche dei tre comprensivi del quartiere Colli Ospedale di individuare un'area adiacente alle loro scuole per realizzare gli asili nido sarebbero credo le più contente perché si realizzerebbe con l'integrazione fra gli asili nido e le scuole dell'infanzia che è richiesta dal Ministero stesso di Istruzione. Quindi davvero chiediamo all'Aggiunta di fare un passo indietro, anzi di fare un passo avanti verso la partecipazione e ci andiamo da subito a disposizione per trovare insieme un nuovo sito per gli asili nido. Il deputato leghista ex 5 Stelle Antonio Zennaro ha incontrato stamattina il nuovo prefetto di Teramo Massimo Zanni serve più polizia? Ha detto il parlamentare. Ascoltiamolo. Abbiamo fatto questo incontro con il nuovo prefetto di Teramo sul tema della sicurezza nella città di Teramo un tema sentito da tanti cittadini teramani perché negli ultimi mesi ci sono stati tanti furti, ci sono stati scontri anche tra bande giovanili è un tema sentito. Siamo al lavoro come Lega a tutti i livelli anche per potenziare il lavoro che oggi fanno in maniera straordinaria gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, però servono più uomini e più mezzi per garantire un maggiore presidio sul territorio della città di Teramo. Siamo stati anche attaccati dal sindaco D'Alberto ma non siamo qui per fare polemica ma per rispondere a un'esigenza molto sentita dai cittadini teramani. La cronaca tre persone, un 42enne di Montesilvano, un 50enne e un 20enne di Penne sono finite in carcere a Vasto altre due, un 27enne di Penne e un 36enne di Montesilvano sono state sottoposte ad obbligo di dimora in quanto responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti e distorsione l'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Penne coadiuvati da quelli della compagnia di Montesilvano le indagini coordinate dal PM di Pescara, Gabriella De Lucia, sono partite dopo una perquisizione a casa di un giovane della provincia di Teramo e il rinvenimento di droga e hanno portato alla luce una serie di cessioni di stupefacente, in particolare cocaina, al suddetto cliente con un giro d'affari di circa 1000 euro a settimana e di 150.000 euro in tre anni a fronte di pagamenti sempre meno puntuali il giovane teramano è stato vittima di intimidazioni per saldare le spettanze arretrate nel corso delle perquisizioni nella abitazione di uno degli arrestati diventata centrale dello spaccio, sono stati rinvenuti un chilo di cocaina, 400 grammi di hashish e 40 grammi di eroina, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e poi ancora due pistole con matricola a brasa e una patente falsa Il comune di Pescara e il comprensivo 7 hanno ricordato oggi con una cerimonia i martiri di Collepineta Le amministrazioni comunali di Pescara e Chieti hanno reso maggio questa mattina alla memoria dei nove martiri di Collepineta che immolarono la loro vita per la libertà l'11 febbraio del 1944 I nove sono stati ricordati con una cerimonia davanti al Cippo che ricorda il loro sacrificio nei pressi dell'istituto comprensivo 7 di Pescara I partigiani della banda Palombaro traditi da un delatore furono condannati a morte da un tribunale militare tedesco Anche oggi la toccante cerimonia ha visto la presenza di tanti studenti Noi abbiamo questo importante ruolo, quello di essere testimoni del Cippo Lo sono i nostri alunni, lo è la scuola, è un modo per poter veramente mantenere questo filo rosso creare questo collegamento importante con la scuola e con i luoghi della storia Questo spazio è stato testimone di un evento drammatico ma deve essere in questo modo foriero di valori quali la pace, quali la libertà, quali la democrazia quali tutti quelli in cui noi crediamo, su cui costruiamo il nostro percorso formativo Importante anche, e lo vediamo pure oggi, la presenza dei ragazzi delle scuole perché è giusto che anche loro possano conoscere quella che è stata la nostra storia Assolutamente fondamentale, considerando che costruiamo parte del nostro curriculum partendo da questo luogo partendo dai valori della storia e da un percorso formativo che diventa ancora più significativo se legato a un evento concreto e a un luogo, qual è la nostra città, in cui noi siamo testimoni ma anche custodi della memoria Così come è accaduto 12 mesi fa a Pescara la notte scorsa giovani poi identificati dagli agenti della Digos hanno gettato la corona deposta ieri in ricordo delle vittime delle foibe in una fontana, indignato il sindaco Carlo Masci, vediamo Non so come qualificare questi gesti stupidi, imbecilli, folli, scriteriati invece di vivere in pace si continuano a fare gesti insulsi come il danneggiamento di una corona messa per ricordare dei morti italiani, dei martiri italiani veramente è inqualificabile quel gesto ieri sera, stanotte la Digos ha preso questi giovani e questo è molto importante perché evidentemente c'è un controllo costante in città possiamo essere sicuri e tranquilli delle nostre istituzioni delle forze dell'ordine che operano in città però questo gesto è veramente vergognoso e purtroppo si ripete ogni volta perché l'anno scorso è successo per due volte noi abbiamo rimesso la corona tre volte e due volte è stata danneggiata adesso la rimetteremo nuovamente perché apporremo la corona in piazza per ricordare gli esuli e i martiri di quel periodo che sono stati infoivati Un traguardo importante per la sicurezza su ferro sono stati acquistati oggi da TUA, l'azienda di trasporto pubblico tre convogli ferroviari innovativi per un investimento di oltre 34 milioni di euro inizieranno a viaggiare dal 2023 Sottoscritto oggi a Lanciano l'acquisto per tre nuovi convogli di TUA per un valore complessivo di 34 milioni di euro convogli altamente tecnologici a bordo dei quali sarà possibile anche effettuare qualora ce ne fosse bisogno la defibrillazione infatti ogni veicolo è dotato di defibrillatore I treni elettrici e la segnaletica fanno riferimento ad accordi con un partner per noi storico che è un player più grande forse al mondo come accennava l'ingegner Viale probabilmente saranno anche traslate nel tempo perché loro si occupano anche di idrogeno e noi abbiamo ricevuto ulteriori 35 milioni di finanziamento per i treni ad idrogeno e naturalmente questo ci pone all'avanguardia in termini green 35 milioni per i treni, 8 milioni per quello che riguarda nuove tecnologie informatiche e poi tutta una serie di interventi come quello che abbiamo presentato questa mattina che fa riferimento alla sicurezza che è la scelta di dotare i treni che abbiamo già a disposizione di defibrillatori per intervenire con immediatezza e con sicurezza per quello che riguarda ipotesi di impatti cardiologici sui treni abruzzesi i treni nuovi pop 2.0 con radio stream hanno 305 posti a sedere e 534 in totale con i posti in piedi un investimento per quasi 16 milioni di euro riguarda anche i lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di un impianto di segnalamento e di sicurezza sulle tratte Lanciano San Vito e Fossacesi a Torin di Sangro, Archi questi impianti permettono di uniformare le stesse agli standard in uso sulle infrastrutture nazionali i tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi i treni sono super accessoriati di tutta una serie di nuove opzioni che vengono offerte ai cittadini abruzzesi tengono anche riferimento per quello che riguardano portatori di handicap e che si modula in maniera importante col sistema di tracciamento un sistema di segnalazione e tracciamento che noi abbiamo in qualche misura era opzionato nel 2019 quando nessuno in Italia aveva sostanzialmente fatto questa scelta siamo stati antesignani in questo senso e subito dopo di noi sono venuti anche player importanti per il nono anno Chieti celebra Charles Darwin tradizionale appuntamento di WF Chieti Pescara e Museo Universitario relatore di questa edizione il professor Maurizio Biondi docente ordinario di zoologia presso l'Università dell'Aquila Stefano Recanati Tutto il male non viene per nuocere Darwin uomo e Darwin scienziato è questo l'intrigante titolo scelto dal professore Maurizio Biondi per l'edizione 2022 del Darwin Day alle classi del liceo scientifico Filippo Masci che tradizionalmente partecipano all'evento si sono aggiunti infatti una classe di prima media della scuola Antonelli di Pescara il liceo mayor di Pescara e l'istituto Volta l'obiettivo è quello di far comprendere alle nuove generazioni la teoria dell'evoluzione e la realtà in cui adesso vive l'uomo cerchiamo di far conoscere Darwin, far conoscere la teoria dell'evoluzione far conoscere la realtà nella quale viviamo in realtà è una scusa per parlare di scienza e ogni anno parliamo di scienza quest'anno proprio di Darwin col professor Maurizio Biondi in Università dell'Aquila che ci racconterà aneddoti particolari dell'edizione di Darwin per spiegare come è arrivata la sua scoperta straordinaria e come oggi ci condiziona ogni giorno non è la specie più forte che sopravvive né la più intelligente ma quella che risponde meglio ai cambiamenti è la citazione che in questo periodo si legge spesso per molti questa frase però non è mai appartenuta al papà dell'evoluzione che riprese dal filosofo Spencer nel 1869 definendola più accurata per spiegare il concetto di selezione naturale Questi ultimi due anni abbiamo vissuto un periodo veramente terribile con il Covid questa pandemia che ci ha condizionato in maniera tremenda e continuiamo a comportarci come se fossero altri problemi occorre cambiare strategia e la pandemia ce l'ha detto occorre puntare al benessere individuale a un ambiente migliore salvaguardare la Terra perché noi senza la Terra non possiamo vivere ed è inutile che parliamo di conquista della Luna di Marte e delle Alstelle perché ci vorranno millenni il nuovo non farà in tempo se prima non salva la Terra Atto finale questa mattina di Start Impresa il progetto fortemente voluto da Confindustria Pescara Chieti per premiare le migliori idee della nuova imprenditoria vediamo Con le premiazioni di questa mattina si è chiuso Start Impresa il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara è giunto alla sua undicesima edizione cinque progetti giunti in finale presentati dagli aspiranti imprenditori e valutati dalla giuria di esperti Start Impresa non è un semplice contest che premia l'idea migliore ma un percorso formativo che fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per costruire il motore far volare le loro idee permettendo ai partecipanti di capire realmente come costituire un'azienda o una start-up di successo e impostando un progetto d'impresa Start Impresa è un'iniziativa che portiamo avanti ormai da ben undici anni questa è l'undicesima edizione e dà l'opportunità a chi vuole ha un'idea chi vuole avviare una propria attività imprenditoriale di venire a conoscenza di quelle nozioni di base che gli permetteranno poi di avviare la propria attività non è un contest in cui andiamo a premiare un'idea, l'idea migliore ma è proprio un percorso formativo e oggi andiamo a concludere questo percorso premiando i migliori business plan perché il tutto è finalizzato poi alla costruzione di un business plan che è lo strumento principale per questi nostri discenti per andare poi a banche diciamo a Venture Capital per farsi poi finanziare il loro progetto L'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo attiverà da settembre prossimo corsi serali per chi vuole conseguire il diploma in enogastronomia e ospitalità alberghiera Tania Bonnici Castelli L'istituto di istruzione superiore di Popparozzi di Teramo attiverà da settembre prossimo il corso serale per conseguire il diploma statale nei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera una conquista per la città capoluogo di provincia ha commentato la dirigente scolastica Caterina Provvisiero che centra due obiettivi quello di combattere la dispersione scolastica e quello di offrire l'opportunità di accrescere le proprie competenze per chi è già nel mondo del lavoro il possesso del titolo di studio è infatti fondamentale sia per accedere a migliori possibilità lavorative sia per cogliere nuove opportunità di formazione e crescita aprire attività in proprio accedere a concorsi pubblici avanzare nella carriera sono solo alcune delle mete raggiungibili grazie anche alle competenze acquisite nel percorso che porta il diploma il corso è rivolto a lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano compiuto i 16 anni a chi ha interrotto il corso di studi a chi vuole qualificarsi e riqualificarsi professionalmente a maggiorenni che siano usciti dai percorsi scolastici dopo la scuola media o chi si è allontanato dalla scuola superiore prima di terminare gli studi ma anche agli iscritti al centro per l'impiego che desiderano acquisire una formazione professionale incardinata nel mondo del lavoro e coerente alle richieste del territorio è proprio il caso di dire non è mai troppo tardi ed ora lo sport serie C Simone Jacoponi un nuovo difensore del Tenamo il giocatore che a fine gennaio ha risolto il contratto col Parma ha firmato nel pomeriggio per il club bianco-rosso e subito dopo è stato presentato queste le prime parole del giocatore che domani si allenerà con i nuovi compagni e sarà a disposizione per la trasferta di domenica a Viterbo penso di portare un po' di esperienza un po' ma anche il fatto di essere stato fuori e di far capire ma anche forse ai giovani che l'importanza di vivere uno spogliatoio di giocare di poter dimostrare che è talmente importante che uno forse quando ce l'ha non se ne rende conto e quindi anche questa esperienza negativa secondo me mi ha servito e può servire poi anche altri ragazzi che adesso stanno iniziando o comunque stanno facendo una carriera no ma è stato tutto tutta la società oltre al mister che già conoscevo e proprio diciamo il progetto la città come ha detto il Presidente l'obiettivo che poi sarà questo e anche le prospettive lo stadio tutto che appunto mi hanno fatto scegliere questa piazza e questa questa città perché ci sono tutti i presupposti per far bene appena mi è arrivata la notizia cioè la chiamata con Teramo ho detto ok poi c'è stato chiaramente come in tutte le trattative dei momenti si si aspetta guarda però è stato veramente breve direi anche perché i tempi insomma a me mi avete fatto soffrire pochette ma quello faceva parte del gioco dai no però non ci sono state grotti no critico no è chiaro che comunque era una scelta da prende importante valutare determinate cose anche non sotto non solo per quanto riguarda me ma anche per la mia famiglia avevano anche due bambine piccole e quindi c'erano delle scelte da fare che però chiaramente poi hanno portato a fare questa fila Simone è la prima pietra che stiamo mettendo anche per il futuro oltre a già i ragazzi che abbiamo Simone sarà con noi fino a 2024 quindi fino a altri due anni di contratto oltre a questo e vogliamo che lui sia il primo pezzo di un progetto importante questo è quello che si vuole fare Continua la marcia di avvicinamento del Pescara al match di lunedì con la Reggiana mancherà l'attaccante Cernigoi mentre in dubbio il centrocampista Pompetti oggi il baby Marco Delemona che classe 2005 ha firmato il primo contratto da professionista vediamo Sarà quasi certamente un Pescara con qualche assenza di troppo quello che lunedì sera sfiderà la Reggiana al Mapei Stadium al contrario di alcune erose previsioni di inizio settimana va verso il forfè l'attaccante Jacopo Cernigoi che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e da tre giorni non si allena il giocatore proveniente dal Seregno domenica era stato titolare contro il Gubbio la sua seconda presenza dopo quella con la Carrarese da subentrato ma se questa assenza si sentirà di meno perché Auteri ridarà una maglia da titolare al cannoniere Ferrari un po' di apprezzione c'è per le condizioni di Marco Pompetti autentico faro del gioco biancazzurro che anche oggi si è allenato a parte e la sua presenza al Mapei Stadium è tutt'altro che scontata mancherà ancora Memushai per il problema alla caviglia così Auteri avrà come punto fisso del centrocampo Pontisso al suo fianco se Pompetti non ce la dovesse fare ci sarà un ballottaggio tra Derisio e Diambo molto dipenderà dalle condizioni dell'ex Baire Catanzaro che è tornato ad allenarsi questa settimana dopo dieci giorni ai box per il Covid altre condizioni da valutare sono quelle di Ingrosso e delle Monache anche loro non al massimo delle Monache che si consola perché quello di oggi è per lui un giorno speciale la firma del primo contratto da professionista negli uffici del presidente Daniele Sebastiani assistito dall'agente Carlo Di Renzo la rosa comunque è profonda e per Auteri c'è la possibilità di schierare un 11 competitivo a partire da un attacco che sta trovando regolarmente la via del gol nel quale Clemenza è favorito su Dursi per completare il tridente con Ferrari e Rauti in difesa Auteri potrebbe riproporre il Bebby Veroli al posto di Ianes oppure confermare il trio visto contro il Gubbio sul fronte Reggiana l'esperto portiere Giacomo Venturi non dispera per il sorpasso in vetta subito dal Modena e conta di poter riprendere al più presto il primo posto Pescara è la prima di 14 finali dice e sul match di lunedì intervistato da TuttoReggiana.com aggiunge se l'interveniato loro ce l'hanno dall'andata noi ce l'abbiamo ancora dall'anno scorso quindi sicuramente sarà una partita importante una partita come tutte le altre perché sicuramente varrà per i tre punti che noi cercheremo con tutte le forze di portare a casa e non sottovalutando nessuno tanto meno il Pescara perché è una squadra attrezzata per altri obiettivi che probabilmente adesso ha diciamo in rotta cambiato questa cosa qui e avrà forse la mente un po' libera perché la vetta è molto staccata però insomma le insidie sono sempre dietro l'angolo come lo erano a Carrara e infatti si è visto ma lunedì sono convinto che la Reggiana sfonderà una grandissima partita E ora la serie D è iniziata martedì la terza parentesi a Pineto per l'allenatore Daniele Amaulo richiamato in panchina a un anno dalle sue dimissioni per sostituire l'esonerato Marco Pomante stamani la presentazione del neo allenatore che debutterà domenica contro l'Alto Casertano vediamo le impressioni sono come quelle del primo giorno quando sono arrivato sei anni fa quindi quando subentri e al di là che conosci l'ambiente sai sicuramente che sei chiamato a migliorare una situazione che in questo momento c'è da migliorare la società mi ha chiesto come solitamente di fare di cercare di lavorare come ho sempre fatto cercando di dare un'impronta alla squadra una motivazione ancora perché magari di cercare di stimolare un stimolo perché magari un attimo quando non vengono i risultati magari tante volte il messaggio che ha voluto dare il presidente per dare la classica scossa e mi auguro come magari è stata data l'anno scorso quando sono andato via mi auguro adesso che riusciamo a darla tutti insieme perché io magari non ho la pacchetta magica da solo non posso fare niente perché cerco da dare quella scossa a tutto l'ambiente magari per cercare di invertire la situazione dei risultati che al momento sicuramente non sono consoni alla potenzialità della squadra Come mai Roberto in queste tre stagioni più forti al momento ci sono avvicinati allenatori? Abbiamo cambiato forse troppo questo sono d'accordo però se in questi anni il Pineto poi alla fine ha raggiunto sempre più o meno gli obiettivi che si era posto anzi ha raggiunto sempre gli obiettivi che si era posto forse anche questo ha permesso tutto ciò non so se è la migliore soluzione perché penso che ci sia sempre un tempo per decidere forse valutiamo nel lasso di tempo deve essere un po' più grande per decidere se il lavoro è stato fatto bene o male però voglio dire in questi anni il Pineto ha sempre fatto bene vuol dire che questa cosa è sempre stata giusta tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23 grazie per l'attenzione buona serata per l'attenzione a tutti i servizi